La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. In tanti si esaltano in queste ore perché la Food and Drug Administration, FDA, ossia l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, avrebbe autorizzato in via definitiva il vaccino della Pfizer. Ma possiamo davvero gioire per questa notizia? Cominciamo a chiarire che se per questo la Food and Drug Administration avrebbe autorizzato in passato anche la carne agli ormoni, gli OGM un po' ovunque, e come mai in Italia invece non abbiamo fatto lo stesso se questo ente può essere considerato una Bibbia nel settore? Evidentemente perché gli standard, per fortuna, per quanto concerne soprattutto la sicurezza alimentare e dei farmaci, in Europa e in Italia sono superiori rispetto a quelli degli USA. Per noi infatti dovrebbe pronunciarsi l'EMA, non ha assolutamente senso esultare per una decisione del suo omologo statunitense che non ha alcun valore in Europa. Ovviamente chiarisco che io non ho dubbi che anche l'EMA in futuro farà la stessa cosa, dato che risponde alla lettera, alle richieste che gli arrivano dalla politicizzata Organizzazione Mondiale della Sanità. Però voglio farvi un esempio in modo che capiate il grado di indipendenza della Food and Drug Administration, ovvero la totale mancanza di indipendenza della FDA. Prendiamo il caso dell'aspartame, un dolcificante considerato da molti scienziati un vero e proprio veleno per l'organismo, soprattutto si è assunto sopra una certa dose. Questo lo ha certificato il Centro di Ricerca sul Cancro della Fondazione di Oncologia Ramazzini, che ha dimostrato il potenziale di pericolosità dell'aspartame, oltre a un legame tra le sostanze rilasciate dal metabolismo di questo dolcificante e l'aumento dell'incidenza di tumori celebrali. Bene, ma allora vi chiederete come è possibile che sia stato messo in commercio? In realtà la Food and Drug Administration aveva iniziato degli studi proprio per dimostrare la tossicità di questo dolcificante, ma quando è intervenuta la politica, spinta ovviamente dalle pressioni delle grandi multinazionali che avevano bisogno dell'aspartame in commercio, come per incanto, lo studio è stato sospeso per mancanza di fondi. Chi pensate che abbia contribuito a rimettere in commercio l'aspartame? La fortuna dell'aspartame si deve a due personaggi, Ronald Reagan e Donald Rumsfeld. Ora, Rumsfeld è stato uno dei più folli e fanatici segretari alla difesa degli Stati Uniti. Per chiarirci, è colui che aveva dichiarato che in Iraq c'erano armi di distruzione di massa, quando non era vero. quello della guerra in Afghanistan, di cui oggi vediamo i risultati, addirittura è uno dei fondatori del Project for a New American Century, un progetto per rilanciare il dominio dell'America sul mondo intero, dove si parla anche di usare armi chimiche come strumento politicamente utile. Quindi, un folle fanatico militare americano. Ma allora, cosa c'entrano questi controversi personaggi con il dolcificante contenuto nelle bibite e negli alimenti autorizzato dalla Food and Drug Administration, dopo che lei stessa lo aveva inizialmente tolto dal commercio? Bene, nel 1981 Reagan sostituì il capo della FDA con un dirigente del Pentagono. Parallelamente, Donald Rumsfeld veniva mandato a dirigere la CERL farmaceutica, ossia la centrale che produceva l'aspartame. Ed è così che con uno scambio di lettere tra la CERL e la Food and Drug Administration, ossia tra due uomini che rispondevano ai medesimi apparati politici, l'aspartame sarà rimesso in commercio contro il parere degli esperti, contro il parere degli scienziati, contro il parere degli oncologi. Dopo questa operazione, la CERL fu poi acquistata dalla Monsanto, la più controversa industria agroalimentare del mondo, quella in mano alle grandi oligarchie del cartello farmaceutico, quella che ha avuto decine e decine di incriminazioni per gli erbicidi, che ovviamente anche quelli erano stati messi in commercio con tutte le autorizzazioni del caso, salvo poi dimostrare aver veramente causato la morte di centinaia di persone. Ora, voi ve la sentite davvero, alla luce di tutto questo, di esultare per l'autorizzazione della Food and Drug Administration del vaccino Pfizer? riflettete, approfondimenti sul sito francescoamodeo.it, ne approfitto per invitarvi al mio canale Telegram Francesco Amodeo, dato che continua la lotta e la censura dei social. Telegram Francesco Amodeo, un saluto agli amici di Radio Radio. La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo.